pasta burro e parmigiano buonissima sembra facile ma lo è non mettere troppa acqua così risparmi di sale e di energia preparo la salsa quando la pasta è al dente la scolo direttamente nella ciotola col burro e adesso mischio bene con un po di acqua di cottura e ora da aglie forte col parmigiano dopo circa un minuto dovresti avere una cremina così è buonissima